Bene ritrovati all'ascolto, questa è l'ultima edizione del notiziario di Televalassina, prima della chiusura, come bene sapete, ordinata dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Una chiusura che noi chiaramente consideriamo provvisoria in attesa di una rivederci, ma nel frattempo vi invitiamo a seguire questa per il momento ultima edizione del nostro notiziario perché ci sono naturalmente novità in merito alla questione e anche daremo rassegna di quelli che sono le vostre voci, i vostri messaggi che stanno letteralmente piovendo nella nostra redazione. Ebbene sono centinaia le telefonate che giungono in redazione dopo questa assurda decisione di chiudere appunto in Italia non soltanto Televalassina ma un centinaio di televisioni locali che danno voce alla gente. Molte persone ci spronano a lottare ma ciò che ci ha colpito sono soprattutto le persone in lacrime che vedevano in Televalassina una compagna fedele per trascorrere la giornata o la serata. A queste persone possiamo solo dire una cosa, state tranquille che noi lotteremo in tutte le sedi opportune per ritornare. Contiamo di farlo in 30 o 40 giorni al massimo. Televalassina quindi non chiude perché fallisce ma perché i nostri parlamentari e senatori hanno deciso così e cioè che l'emittenza locale deve essere anientata. Ci ha fatto particolarmente piacere la telefonata di oggi con Giorgio Gardini, titolare di TV Salso, di Salso Maggiore, disperato perché dopo anni di attività tra la gente ieri ha dovuto chiudere gli impianti. E come detto i criteri di questo bando, nato nel 2010 con il governo Berlusconi, hanno premiato solamente i più grandi, ignorando la qualità dei programmi, la storicità o quant'altro. Il Ministero ha deciso d'ufficio le intese con cui ogni televisione doveva partecipare al bando per la richiesta della medesima frequenza. Il Ministero a tavolino nel 2010 ha assegnato le frequenze digitali sapendo che un predestinato gruppo di televisioni sarebbero state annientate. Il destino di un emittente non è mai stato nelle mani dell'emittente stessa, ma del Ministero che a priori ha scelto la sorte inserendola in gruppi d'intesa obbligati scadenti. Enormi gli investimenti nel 2010 che ora vengono vanificati. Il Ministero si giustifica con la frase lapidaria, purtroppo questo è il rischio di impresa. Invece il destino di un'impresa lo ha deciso il governo a tavolino. E c'è un comunicato da parte del Comitato Radio TV Locali che vi andiamo a sintetizzare. Appena chiuso il bando in otto regioni per ottenere una nuova frequenza digitale, molte TV locali si ritrovano oggi spente. Il bando è stato indetto a seguito del riassetto del sistema dopo la vendita delle frequenze dal 61 al 69 della banda UHF agli operatori di telefonia mobile, che ha portato alla chiusura di decine di emittenti televisive e alla perdita di migliaia di posti di lavoro nel settore. Hanno venduto all'asta le nostre frequenze agli operatori di telefonia mobile incassando 3 miliardi di euro e come se non bastasse, all'ultimo momento ci hanno pure tolto un'altra frequenza, la 35. La surda legge è partorita dal governo Berlusconi, prosegue il comunicato del Comitato Radio TV Locali, il cui conflitto di interessi sull'intera vicenda e sotto gli occhi di tutti ha voluto l'esproprio delle frequenze alle TV locali a vantaggio delle ricche società telefoniche, le stesse che guarda caso costituiscono i maggiori introiti pubblicitari del gruppo Mediaset. Ora abbiamo una testimonianza significativa, è quella del sindaco di Asso, Maria Giulia Manzeni, che è giunta nei nostri studi per dare la propria testimonianza, anche in rappresentanza dei tanti primi cittadini del nostro territorio. Vediamo. Tra le testimonianze che ci sono più care è anche quella dell'amministratore, in questo caso Maria Giulia Manzeni, sindaco di Asso, che noi prendiamo anche in rappresentanza di tutti quelli che sono i sindaci del territorio e che sicuramente non mancheranno di esserci vicino, almeno lo speriamo. Da parte del primo cittadino di Asso arriva proprio questa testimonianza diretta che raccogliamo volentieri. Sì, io ho preso questa notizia dai giornali e poi da Maurizio e da Daniele e siamo tutti veramente dispiaciuti, però non rassegnati, nel senso che adesso cercheremo di capire che cosa si può fare per stare al fianco della nostra emitente televisiva e capire un po' questa questione e com'è. Ecco, io devo dire che sono veramente dispiaciuta perché ho letto la storia di TVS. Risale al 1982 quando un imprenditore con uno spirito veramente pertinace ha cominciato ad aprire questa piccola televisione, ha fatto degli investimenti e ha fatto crescere la propria creatura facendola diventare una televisione di tutto rispetto, quindi con dei canali visti su un vasto territorio e quindi ha creato dell'impresa, ha fatto impresa al nostro genio italiano, quello di chi con grande passione si mette, lavora lacrimente e costruisce qualcosa. Quindi io credo che prima di tutto si debba tutelare anche questa dimensione dell'impresa TVS, cioè dell'imprenditore che ha investito e che ha fatto crescere un'attività, che ha dato del lavoro. E quindi certamente anche un plauso a Maurizio che ha creduto in questa cosa, che ha cresciuto e ha portato qui fino all'anno 2012, dando un servizio, perché poi questo è un'impresa che ha dato un servizio, ha dato un servizio al territorio, un servizio pubblico, facendo sì che la comunità potesse crescere tutta insieme perché con i servizi ha consentito a tutti quanti di capire cosa c'era sul territorio, di essere coinvolti nelle manifestazioni, quando c'erano comunque le elezioni, con le campagne elettorali, piuttosto che proprio facendo sì che il vissuto di tutto il paese, di tutto il territorio, che poi è diventato molto vasto, entrasse in tutte le case. Quindi ci ha permesso di vivere quello che il territorio ha promosso e ha fatto in tutti questi anni. Io credo che questo sia un valore aggiunto incredibile, quindi un servizio pubblico notevole dato, un'impresa che sta per chiudere, o così pare, e poi anche un servizio economico, perché comunque c'è stata la pubblicità che ha fatto crescere collateralmente anche le altre aziende, le altre imprese che offrivano prodotti. Se ne è fatta pubblicità e quindi anche altre imprese, grazie al servizio di TVS, sono cresciute. Ecco, io vorrò, approfondirò la questione. Credo che questa legge è nata un po' dalla necessità di mettere un po' di ordine nella sensazione delle frequenze e dal fatto che siano poi nate nel tempo molte televisioni. Quindi la legge avrà sicuramente una sua razio e ha un suo senso. Però credo che il risultato finale non sia condivisibile, cioè che in sostanza le piccole televisioni locali, le televisioni più piccole che hanno avuto e hanno un'importanza locale fondamentale, vengono chiuse a scapito probabilmente delle frequenze televisive più grandi, insomma delle televisioni più grandi. Questo forse è l'aspetto che sicuramente non è assolutamente condivisibile. Quindi io sono davvero dispiaciuta. Certamente credo di poter interpretare il pensiero di tutti i sindaci della nostra zona, perché Televallassina per noi è stata veramente importante, proprio anche per permettere di condividere la vita sociale dell'intervalle di tutti i comuni che, come dicevo prima, è entrata in tutte le case. Quindi siamo al fianco di Televallassina e anche come amministrazione cercheremo, magari insieme anche a tutti gli altri sindaci che sono sicura ci saranno vicini, di capire questa questione, di capirla nel dettaglio e di fare quello che come amministrazione ci sarà possibile, perché riteniamo questa perdita una perdita troppo grande per stare solo a guardare. Quindi cercheremo di fare quello che sarà possibile per riavere questo canale, perché l'importanza sia storica ma che contingente ci porta a comprendere che questo servizio che stiamo perdendo è un servizio troppo importante per la nostra comunità. Paradossalmente l'indicazione di chiusura viene dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Esatto, come dicevo prima, Televallassina è stato un veicolo di sviluppo economico, di sviluppo economico per le nostre imprese locali che ne hanno potuto fare pubblicità, ma anche dal punto di vista turistico. Io ho sempre visto andare in onda dei bellissimi documentari che appunto facevano vedere le bellezze del Triangolo Lariano, del Lago di Como e considerando che ormai la nostra televisione, appunto Televallassina, ha una diffusione molto ampia, perché abbiamo visto che è arrivata fino a Morbegno, Lecco, nella zona di Erba, verso Como, quindi un veicolo turistico di promozione turistica molto importante, quindi siamo ancora più perplessi, ma poi l'importanza di conservare il valore di una televisione locale che crea anche coesione. Tra l'altro vorrei dire anche un'altra cosa, che Televallassina è sempre stata una televisione molto corretta da tutti i punti di vista. Ha sempre dato spazio a tutti, anche dal punto di vista politico, cioè quando ci sono state le varie campagne elettorali, oppure alle varie rappresentanze politiche, io parlo del Comune di Asso, la maggioranza, la minoranza, piuttosto che anche del territorio. Una televisione molto corretta, che non è mai stata di parte, ha sempre portato e riportato le informazioni in modo veramente obiettivo, con una grande onestà intellettuale e anche di ontologia. E questo sicuramente è un valore aggiunto, così come una grande professionalità nelle trasmissioni proposte, trasmissioni serie, trasmissioni corrette, belle trasmissioni che hanno permesso al Paese di Asso, a tutto il territorio, il triangolo orariano, a tutto il territorio sicuramente di crescere. Quindi sicuramente un valore aggiunto. Ed è anche l'occasione opportuna per scambiare indirettamente gli auguri con gli assesi. Lasciamo al primo cittadino di Asso il microfono per alcuni minuti per augurare appunto Buon Natale e felice anno nuovo ai propri concittadini. Sì, grazie. Io auguro a tutti i miei concittadini Buon Natale, lo faccio con grande gioia perché finalmente i lavori della Rotonda sono terminati. Ringrazio tutti quanti, cittadini assesi e non anche della valle hanno sicuramente subito in questi mesi dei disagi, però l'opera ora è lì, è un'opera importantissima che ha messo in sicurezza il nostro territorio, un nodo nevralgico, quindi proprio l'ingresso di Asso dove c'è il comune, dove c'è la farmacia, l'ingresso al Paese. Io credo che quest'opera potrà cambiare nel futuro veramente le sorti del nostro Paese. Questo è un primo passo, è un primo lavoro. Poi c'è dell'altro lavoro da fare, sicuramente è sotto gli occhi di tutti ed è visibile, però l'amministrazione che verrà, noi siamo in scadenza, sono sicura che programmerà e farà tutto quello che è necessario per uno sviluppo anche turistico del nostro Paese, che secondo me è possibile, abbiamo una cascata della Balategna con un parco che ormai è stato acquistato e quindi con un ragionamento soprattutto di territorio, certamente uno sviluppo anche turistico ora è immaginabile, sicuramente pensabile e poi andrà però certamente costruito. Quindi ringrazio tutti per la pazienza che in questi mesi abbiamo dovuto tutti quanti avere, oggi però abbiamo un'opera importante dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista della sicurezza che consegniamo in fine mandato alla nostra collettività. Quindi grazie a Televallassina, io non credo che questo sia un addio, me lo auguro, comunque la ripeto, saremo al vostro fianco per cercare di fare tutto quello che è possibile per capire com'è questa situazione e di capire se si può fare qualche cosa. Nel frattempo però un augurio di serenità a tutti quanti. Ora sintetizzeremo quelli che sono i tanti messaggi che continuano a giungere in redazione. Ci arriva soprattutto un messaggio di un'altra associazione di categoria per le tv locali, la solidarietà e l'indignazione della Rea. Anche noi stiamo protestando per vie formali e informali contro queste assurde chiusure, tra l'altro pianificate da tempo da Paolo Romani e dal suo capo per favorire le telecoms. Complimenti per la tenacia e fermezza della vostra lotta che è anche la nostra a disposizione per eventuali richieste di sostegno operativo e burocratico. Andrea Lorenzon ci scrive, in questo brutto momento vi mando un grande abbraccio. qualsiasi cosa fosse necessaria per farvi ritornare su di me potete contare. Da Valbrona ci scrive Giancarlo Salari, avete fatto tanto, anzi tantissimo, perché essendo un appassionato del settore e anche radio amatore posso capire con quale spirito avete sempre affrontato e portato a termine i vostri progetti. Sono certo che i vostri sforzi non resteranno vani, c'ero anche quando anni fa era stata chiusa la vostra emittente, ricordiamo rimase chiusa circa un anno e mezzo, poi siamo riusciti a riaprire. Allora riusciste con notevoli sacrifici a ritornare in auge, ricorda Giancarlo, spero vivamente che anche questa volta ce la farete in questa impresa difficile, ma non impossibile. Margarita Teodoro da Asso ci scrive, è una perdita grave, la chiusura di uno spazio informativo è sempre la chiusura di un pezzo di libertà. La libertà è sempre una conquista da rivendicare, la chiusura di questa nostra emittente locale ci sgomenta. Renato Di Pier, sono certo che finirà in gloria, forza che ce la farete e buon Natale malgrado tutto. Michele Spagnuolo, consigliere comunale di Erba, sono sempre stato e resto convinto della libertà nel campo giornalistico e radio televisivo, forza e auguri. Dario Simonetta Ramundi, mi piace ricordare tutte le trasmissioni spensierate durante il giorno di Natale e la compagnia con i cartoni animati, ma come si fa a chiudere una rete molto presente sul territorio e sempre pronta a portare le notizie nelle case di tutti, per i politici amanti dei posti di lavoro bravi e proprio così che si continua a spegnere i sogni dei lavoratori seri. Marilde ci scrive, è una bruttissima notizia, non brutta, purtroppo c'è sempre di mezzo quella cozza di politica, dobbiamo farcene una ragione, vorrà dire che in questo periodo mi darò ai cartoni, senz'altro più divertenti dei notiziari e dei salotti televisivi. Allora, sabato sera, in occasione delle riprese del mandarino d'oro, nel nostro comune di Valbron, nella sala civica del nostro comune, ho preso con ramarico che Televalassina avrebbe cessato praticamente, non so se oscurando o temporaneamente, la propria emittente. naturalmente non è stata del loro iniziativa, ma è stata imposta dall'alto. E questo è una cosa che è veramente spiacevole, veramente spiacevole per il nostro comune di Valbron, per tutto quanto ha fatto Televalassina, perché è sempre stato presente con noi e oltretutto sempre gratuitamente nelle riprese per ciò che riguarda le varie manifestazioni organizzate dall'amministrazione, in particolare anche con l'associazione dei pescatori, nelle riprese della pesca dei ragazzi alla ghetto sportiva, nelle riprese della sagra della trota, anche per ciò che riguarda l'associazione del cacciatore, con le riprese della festa del cacciatore e molte altre iniziative. Io personalmente sono molto amico sia di Maurizio Ghiglione sia del figlio Daniele, che comunque sono bravissime persone, si sono dati molto da fare e si sono impegnati anche ultimamente con degli investimenti notevoli per ampliare la loro, adesso io non è che sia competente, ampliare la loro rete non solo sul territorio della Valassina, ma sono anche altre zone molto abbastanza lontane per ciò che riguarda la Brianza, per ciò che riguarda le chiese e non ritengo assolutamente giusto che Televalassina deve cessare, perché già noi paesi qua un pochino diciamo fuori dai grossi centri, se non facciamo un po' di turismo, se non abbiamo qualcuno che ci fa conoscere, qualcuno che ci sostiene, che ci sia sempre presente è un vero peccato, è un vero peccato perché noi amministratori di questi piccoli comuni abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno di loro per farci conoscere e poi anche penso che a nome dell'amministrazione comunale di Valbrona di esprimere tutta la nostra solidarietà e di personalmente praticamente mi impegno per iniziative che possano ripristinare al più presto questo servizio, perché è veramente una cosa che in questo momento sono molto rammaricato, ne ho un dico deluso perché non ho il carattere di, e questo l'ho già detto anche agli amici Ghiglioni, padre e figlio, non lasciatevi andare, siate forti, in questo momento bisogna mettercela tutta, ripeto la disponibilità da parte nostra e poi eventualmente vediamo come muoverci anche a livello di amministrazione, posso sentire anche altri colleghi sindaci del territorio che sicuramente anche loro con Televalassina, diciamo, penso che debbono molto oltretutto. Antinore Salardi, vi mando questa mail a nome di tutta la Franchi Laser di Proserpio per esprimervi il nostro disappunto sulla vostra vicenda che ci sembra surreale, per la collaborazione che ci ha visti partner in questi anni e speriamo anche nel futuro, vi auguriamo che questa situazione possa risolversi nel migliore dei modi. E poi semplicemente Claudia Frigeri, una giovane nostra telespettatrice, ci scrive, peccato togliere Televalassina, dimostrazione del fatto che la nostra emittente era apprezzata da chiunque a qualsiasi età. Ci fermiamo ancora un attimo, poi ancora testimonianze dal nostro territorio. Ora la volta di una testimonianza da parte di Franco Bramani, è un nostro storico collaboratore. Riprendiamo le testimonianze in merito a quello che è stato il nostro passato, quello che sarà anche il nostro futuro, quantomeno lo speriamo tutti. Con noi in studio oggi è Franco Bramani. Franco Bramani è uno dei collaboratori storici di Televalassina e ha pensato opportuno fare una riflessione in merito a quanto sta accadendo, non soltanto a un'emittente televisiva come la nostra, ma per quanto riguarda l'intero settore radiotelevisivo nazionale. Ma è un vero peccato che chiuda un'emittente storica come Televalassina, perché dopo tutto è sul territorio da 30 anni. È una televisione che cura, che mostra quelle che sono le problematiche del territorio, contrariamente a quelle nazionali che prendono dei pacchetti, dei format, che non corrispondono alla realtà territoriale. Invece Televalassina bene o male riesce a soddisfare diversi campi. Poi adesso con i vari canali tematici è riuscita anche a indirizzare, per cui uno che vuole vedere dei documentari che sono anche di eccellente qualità sa che va su TVS Doc e trova dei documentari. L'appassionato di ferromodellismo o ferroviario va su TVS Ban. Per cui il pacchetto era diventato oramai molto molto variegato e penetrante. Questo veramente è un peccato a cui il legislatore dovrà, e il politico soprattutto, prima o poi riflettere e pensare. Stiamo distruggendo veramente l'Italia. Abbiamo un'Italia, tutti ci lamentiamo, però poi l'assurdo diventa quotidianità. Stiamo scoprendo tanti amici, tanti ascoltatori, non che ce ne fosse bisogno perché lo si sapeva da sempre, Televalassina sul territorio è un punto di riferimento per tutti, però è significativo questa vicinanza da parte delle persone di qualsiasi età. Sì, perché come ho detto prima i programmi, le proposte sono varie e variegate, per cui riesce a soddisfare i bambini hanno un loro canale con i cartoni animati. E poi c'è quel senso, quello spirito più di umanità che non c'è sulle televisioni nazionali. Abbiamo dei programmi che purtroppo sono dei programmi gridati, sguaiati, dove per chi ha fatto un po' di televisione, per chi è stato dietro la telecamera, per chi ha imbastito dei programmi, sa che cosa si può fare col mezzo televisivo. La televisione forse per definizione a volte fa vedere quello che non c'è e a volte non riesce a mostrare quello che c'è veramente perché ci vorrebbero adesso con la nuova tecnologia riesce anche a dare delle emozioni, che però è difficile trasmettere, mentre a volte con la falsità riesce a trasmettere quello che non c'è. Ecco, e siamo al momento dei ricordi. Come abbiamo detto, collaboratore storico con Maurizio Ghiglioni di Televalassina. Qualche ricordo, qualche aneddoto, qualche momento un po' così curioso? Qui andiamo indietro parecchio nel tempo. Con Maurizio ci conoscevamo da quando eravamo bambini perché entrambi siamo di canzo, abitavamo a poche decine di metri di distanza. Quando a un certo punto ho visto una sera sullo schermo televisivo passare oltre alle immagini c'era anche una scritta, se vuoi dare una mano, se sei in grado di fare qualcosa, contattaci. Ho sempre avuto la passione per la cinepresa, ancora la macchina da ripresa con celluloide e allora ho detto, vabbè dai, ho ripreso quel vecchio contatto che avevamo così in gioventù con Maurizio e abbiamo cominciato a portare avanti il discorso. Mi ricordo ai primi tempi Maurizio aveva qui in casa un Commodore VIC-20 col quale faceva le titolazioni con dentro e in mezzo le stelline, per cui a vedere come fare anche a fare lo scroll, a far scorrere. Allora gli ho fatto vedere alcune, perché lì dovevi proprio programmarlo e ho cominciato con passare i titoli e la programmazione. Poi si è passati proprio a mettere in piedi il primo ripetitore storico, penso che sia quello su di Piazza D'Orella, perché prima aveva un piccolo ripetitore qui che irraggiava a pochi centinaia di metri da casa sua. Piazza D'Orella invece abbiamo messo in piedi un traliccio molto molto alto, era anche troppo alto, infatti glielo avevo accennato a Maurizio, dico, ah che l'è troppo in piedi, era troppo magro per l'altezza che aveva e per i tiranti, infatti quando poi è arrivata una bufera di neve, in parte l'ha piegato, Maurizio è subito corso ai ripari, ha messo un traliccio di dimensione più calibrata e un po' più basso. Per cui anche le fasi manuali, mi ricordo quando eravamo in cima al traliccio che beccheggiava, attaccare i tiranti e poi pian piano a portare l'elemento successivo e si vedeva giù, scarena proprio lì sotto, per cui anche questi erano, sono dei ricordi, mi sembra con i muli ha portato i tralicci su a Piazza D'Orella e poi a dorso di mulo e poi li abbiamo messi uno sopra l'altro. Poi le prime trasmissioni ideari delle trasmissioni intelligenti. Una delle prime e oltretutto in diretta era l'oggetto misterioso. Io procuravo dai miei nonni, dai miei zii, dei vecchissimi oggetti che mettevo rigorosamente in un sacco del pane, del prestinaio, per non farlo vedere a nessuno, per cui l'oggetto dentro, fino all'ultimo non lo vedeva nessuno studio e veniva mascherato, si vedeva prima in una piccola parte e c'erano le telefonate in diretta. C'era la Raffaella, che è stata una delle prime conduttrici, che riceveva le telefonate. Le telefonate non erano filtrate, per cui ho dovuto fare da sparring partner prima con la Raffaella per dire, occio, perché era anche una ragazza carina, dico arriveranno magari delle telefonate un po' stupide, per cui preparati anche alle telefonate. Devo dire che il pubblico di Televallassina è stato anche attento, intelligente e pochissime stupidaggini sono passate in diretta, però c'era sempre questo piacere della diretta, cosa che non tante televisioni facevano allora. E poi pian piano altri programmi, abbiamo fatto la diretta per qualche anno della notte di Natale su da Gemù, per cui anche lì... La tradizione che è proseguita ancora fino all'anno scorso, sarebbe proseguita anche quest'anno. Per cui organizzare anche i gruppi, gli interventi, cercare sul territorio dei gruppi propositivi, intelligenti, che operano nel sociale, radunarli attorno al fuoco e intervistarli, alternando poi, mi ricordo ancora, c'era stata anche un'alternanza con lo studio, avevamo qui il maestro Lercari studio e io ero su al freddo, con Maurizio con la telecamera lì piazzata, ogni tanto ci scaldavamo attorno al fuoco, intanto che passavamo la linea all'Ercari qui in studio e ci si rimpallava così, facendo vedere spezzoni un po' in diretta, un po' da studio, fino a poi arrivare alla messa di mezzanotte e poi all'uscita un bel vin brulee che scaldava l'ambiente. Poi le sagre, tutte le varie manifestazioni locali, la diretta anteprima rally, del rally di Como, fatto anche qui sopra sul piazzale, fermando le macchine che andavano a fare ricognizione, intervistando i piloti e via dicendo. La fase pionieristica di Televalassina, dopodiché cresciuta, l'estensione del segnale su Erba, sulla Brianza e poi ancora, questione di settimane, di mesi, l'ecco e il tentativo di arrivare fino al capoluogo Comasco. Beh sì, ho sentito che ci sono stati più di un problema, più volte che su Como sono avute difficoltà. Io direi che alla fin fine ci si nasconde sempre dietro un dito, se ci sono delle responsabilità, dei freni, forse sarebbe bene farli emergere. Adesso io ho sentito queste cose. Allora, Vox Populi, Vox Dei, può darsi che ci sia del vero. Per cui, tante volte, quando vai a mettere di fronte a delle responsabilità alcuni personaggi, non possono sgattaiolare, allora deve emergere la realtà. Volevo anche, Mari, menzionare, abbiamo realizzato i primi spot con Maurizio, qui andando a cercare magari gli elementi, i soggetti, le ragazze. C'è quello famoso di un salumificio locale di Canzo, nel quale avevo pensato di mettere in contrapposizione due personaggi, un Brianzolo Doc e un Napoletano Doc, che poi tutte e due convenivano che il prodotto era buono. Ed è stato quello che alla fine stavamo montando quando è caduto la TR, per cui da lì siamo usciti con Maurizio e siamo andati anche noi a vedere cosa era successo in quella notte. Il primo, diciamo, grande servizio giornalistico di informazione di Televalassina. E allora veniamo al futuro a questo punto, l'augurio. L'augurio da parte mio, ma da parte di tante, tante persone che sento, che trovo, tanti ancora mi individuano, mi riconoscono come Televalassina, ma voi hai qualche notizia, ho sentito che chiude, deve chiudere, perché chiude. Per cui l'augurio è a tutti voi e a tutti gli utenti di avere presto ancora un chiarimento, ma soprattutto un segnale sul quale uscire, un in bocca al lupo a Televalassina e augurio a tutti voi. Ancora messaggi in redazione, ci dispiace apprendere della chiusura di Televalassina, vi auguriamo di poter risolvere al più presto i problemi per poter tornare così alle vostre consueti attività, preziosa testimonianza di tanti fatti e avvenimenti, così ci scrivono Miro e Maria Pia Pina. L'Associazione Culturale Scannagatta, siamo con voi, auguri di un ritorno presto alle trasmissioni, siamo a vostra disposizione anche per un'eventuale petizione. E poi ci scrive Emanuele Castagna, un lungo e apprezzato messaggio che sintetizziamo. In Valassina riceviamo pochissimi canali televisivi, dove andremo a finire se ci tolgono anche Televalassina? Come faremo a valorizzare il nostro territorio? Una persona non è più libera di vedere ciò che vuole, perché viene dirottato obbligatoriamente su altri canali che pensano solo al ritorno economico o ad inculcare le loro ideologie. Spero vivamente che possiate vincere questa battaglia, sia mediatica che personale. Non può chiudere, dopo 30 anni di attività, un emittente sana che dà lavoro a molte persone. Davide Tessari, ho appreso a mezzo stampa che siete costretti ad interrompere le trasmissioni. Mi dispiace tantissimo, perché speravo fin dallo switch-off che questa fosse la volta buona per tornare a ricevervi. Purtroppo la nostra valle interessa a pochi. E c'è chi come Marinella invoca l'aiuto di Striscia alla Notizia, e chi invoca invece la Gabanelli di Report su Rai 3. Sicuramente non staranno a guardare. Gli amici svizzeri della ferrovia mesolcinese, che l'anno prossimo perderanno per sempre il loro trenino, ci scrivono, difficile purtroppo fare qualcosa, un ringraziamento in ogni caso per gli eccellenti contributi dedicati al nostro trenino. Paolo Tagliabue da Cantucci scrive, Walter da Costa Masnaga ci scrive purtroppo da questa gentaglia che ci impongono a Roma possiamo aspettarci. Solo questo. Questi ed altri, come detto, i messaggi che continuano a giungere in redazione, Televalassina tornerà, lotterà per tornare, perché i nostri funzionari, parlamentari e senatori chiusi nelle stanze di Roma non possono decidere a tavolino chi può andare avanti e chi no. A Roma non possono conoscere le singole realtà territoriali, ed è vergognoso il modo in cui hanno tolto la voce ad un centinaio di televisioni e quindi a migliaia di persone. Televalassina è disponibile ad ascoltare i vostri commenti, le vostre testimonianze. Vi ricordiamo che in questo periodo potrete contattarci telefonicamente allo 031 68 3369 oppure via email a redazione chiocciolatelevalassina.it, sul web al sito www.televalassina.it, su YouTube all'indirizzo youtube.com slash televalassina. Vi invitiamo anche ad iscrivervi alla nostra pagina Facebook che in poche ore ha raggiunto ben 1300 iscrizioni con decine e centinaia di messaggi e testimonianze di affetto. E per quanto mi riguarda posso soltanto ringraziarvi e darvi un arrivederci a presto. Continuate quindi a seguirci tramite i canali che vi abbiamo appena indicato. Per ora vi giungano anche i nostri più sinceri auguri di buone feste. Grazie. 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 Grazie.